Fuoco nel fuoco La gente intraccare va a fece Le passioni tue e le mie E' quasi un gioco, sai Mescolare suoni e magia Per far salire l'emozione Salire fino al sole E ricadere lungo il pendio Quello dolce che hai Voi cum de-ati intrat pe aici si in altta parte? Cum? Voi intrat pe aici, nu-i intrat pe aici Da Intram noi, eu sunt o astfel de E un emotione Nu te imprestea Ca soții mei are obicei Buongiorno, buonasera Buonasera, come va? Tutto bene? Tutto bene, andiamo a primare Veneția, come diceva aici La orașo asta este Versace Vieste 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 este la neveste Vieste el comine La lașa o lai Vieste el comune Vieste el comune Bun Vieste el comune Vieste el comune in fretta l'amore questo è un paese che non è il mio spero che vi piace ma scusati per le corbele che ti ho avuto e che ti ha minuto che faci 30 minuti e in fondo mi hai fatto ora e 20 ma è un bello un pochettino non è come da voi da Irlanda e aici è un pochettino si, si e ti ho spettino a tutti Irlandesi ma non ti preoccupi per le corbe non ti preoccupi per le corbe ok, è ok e aici è ok e aici è un pochettino per le corbe che non ti fermi per le corbe questo è Dani hai avuto Dani i corbele non corbe, corbe corbe ok 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 basta 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 è bene tutto bene ma non è ma non è è un pochettino ma non è un pochettino ma non è un pochettino Sì, ok, 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 ok tra tutti R101 canta 3 canzoni in fila per te un messaggio per la televisione romana non stai se vorbe non stai se vorbe un tractor, non? non trattori, non? non 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 si ok mangiare la lunalle rimane non non si molto non non ok ok No, 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 no. Vino ok. Vino ok. Vino ok. Vino ok. Poco frana, mangiare più. Hai tutto. Hai spus. Io non beo. Aici è speciale. Due paharie in parte. Ehi. Ehi, ehi, listen. Giovanni. Io attravo. Io attravo, Giuliano. Io attravo, Giuliano. Tutto il contrario a me. Ma non ti sape. Tutti i versi con i versi. Persa, persa. Dio, parlo. Sì. 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 Ma sai perché? Non è così. Non è così. Ma sai perché? Sai perché? Non è così. Io, quando sto in ufficina, lavoro mai sulla testa, la testa non si ferma mai. E' un computer, quando ti metti al tavolo, ti rilassi, ti metti tutto ciò che hai fatto la giornata, allora tu mangi, 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 ma hai anche tu lo stesso vizio. E guardi la sequa, la torbiglia, voglio fare la bolla, è così! E' camminare di scatenato, ma si traccia la sempre più presa un piedo. Non c'è. Non tocat, non parla! Taci, taci! Taci, hai mai dremi! Mai spremi? Vai pulcire in mezzo! Sorele, come ne zicea le to Dortmund? Sorele, vieni, come! C'è un problema? C'è un problema? Ma, medicina perdona Non fanno C'è? Viagra perdona Non fanno Non 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 Basta per noi Che fai le donne? Tu pensi che succede? Magà Mamma mia 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 Esco di salami affettati Esco di salami affettati Una Tu pensi che è Il Un Um Un 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 Grazie a tutti.